Siamo dal volley, dalla Sir, Giannelli colpo ufficiale sul fronte dei rumors, si fanno insistenti quelle per un altro colpo in casa Sir, l'arrivo dell'opposto di Civitanova, neocampione d'Italia, il lussemburghese Camil Ricicli. Vediamo. Ora è davvero ufficiale, nella prossima stagione di Superlega Volley, il palleggiatore, capitano del Trentino Volley della Nazionale Azzurra, Simone Giannelli, vestirà la maglia della Sir Safety Perugia, a cui le stagioni in casa Caitas diventando nel faro in campo, conquistando due scudetti, una Coppa Cev, un Mondiale per club e risultando MVP nella Superlega 2015, miglior under 23 per tre stagioni, miglior palleggiatore di Champions League 2016, due volte miglior palleggiatore del Mondiale per club. Dal 2015 Giannelli entra anche nel gruppo della Nazionale Signores, divenendo inamovibile regista Eperno, vincendo l'Argento alle Olimpiadi 2016, alla Coppa del Mondo 2015, la Grand Champions dell'atleta eccellente, dotata di grande tecnica e velocità in uscita di palla, completo in tutti i fondamentali, carattere, grinta, carisma e personalità. Giannelli arriva al parabarton carico di motivazioni, come lo sarà anche la squadra di Gerbic, prima però. Sarà il parcheggio giapponese olimpico, a vederlo protagonista con la squadra azzurra di Blengini.